Ciao via, sto piattolone ragazzi, mi è preso una fama incredibile, che c'avrà in mio babbo in casa? Che c'è qui? Un pezzo di pane, buono, è duro come il legno, un po' un crostino. Ciao via, sto piattolone ragazzi, mi è preso una fama Fahrt, ho preso una tempestina, in bilanci se ho preso una casseride per noi. Prendi a vedere uno così di mezzo. Figlio per il culo. Ha fatto così oggi. Dai basta! E te chi sei? Chi sarò? Il retino. E te chi sei? Me lo fa una storiezzina. E te chi sei? Cracra! Cracra! La rana parlante! La rosa strommante! Mi vergogno troppo. Chi è questo? Dai forza dai 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 dai. E te chi sei? E te chi sei? Sono la fatina dai capelli turchini! Bella figa sì! Merlina davvero complimenti! Pinocchio vieni un attimo qua! Un attimo! Un attimo qua! E ti senti? Un attimo qua! Un attimo! Un attimo! Guarda chi c'è là! Non pigliare per il culo! Non pigliare per il culo! Il tupè! Non pigliare per il culo ciccio! Stai molto attento! Vai! Non lo farei mai più The Woman in Red! Occhio perché ti piglio per queste gambine e ti accendono come un fiammifero! Stai attento eh! Stai molto attento! Cosa sei un attaccaprile? Basta! Basta! Orsu! Per Diana! D'accordo? Oh! Pinocchio! Oh! Ti piacerebbe diventare un bambino di carne come tutti? Non mi parrebbe il vero! Ecco! Io ti posso far diventare! Davvero? Sì! Ma che cool! Ti spiego come però! Ti spiego come! È molto semplice! Io con questa bacchetta ti do un colpetto a te e te diventi di carne! Buono! Ho finito? Fammi finire la frase! Stai un po' zitta! Allora! Cosa dicevo? Allora! Come ti fa diventare di carne? Boh! Pinocchio tu hai una madre? Perché? Sappi che è una gran troia! Va bene? Taci! Come ti faccio diventare di carne? Io con questa bacchetta ti do un colpetto a te e te diventi di carne! Quando sei di carne mi dà un colpetto a me! Si fa l'affare! Un colpetto a te o un colpetto a me! Io ti do un colpetto a te e a me anche quattro o cinque colpetti! Orzupi! L'occhietto di merda! Ti fa diventare di carne! Ma rimango di legno! Why? Why? I know io! La so io! Ti faccio diventare di carne! Ma carne come? Carne come la tua! Carnaccia marcia! Non vuoi diventare di carne? No! Non vuoi diventare? Quante volte te le devo ripetere le cose? Prova a ridomandarmi chi sei! Prova! E te che sei? Sono un modello perché? Vado scusa! Non vuoi diventare di carne? No! 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 Cosa fai? Me la tiro! Andata via Vanna Marchi! Sentite il freddo che fa in questa casa oh! Un freddo incredibile proprio! Ma poi neanche quel freddo asciutto capito? Troppo freddo umido! Che io lo sento particolarmente perché mi imbarco! Guarda che lavori! L'imbarco la fa schifo! Guarda che idea! Se mi metto a sedere davanti al fuoco mi dovrei imbarcare! Mi ritirerò un pochino ma non mi imbarco! E adesso con l'ausilio dei nostri potenti mezzi tecnici in un minuto cambieremo la scenografia! La musica!